Benvenuti ad un nuovo appuntamento con AMTG. Iniziamo dall'attualità. Secondo le classifiche dell'Agenzia Umbria Ricerche sul gender gap, l'Umbria è ancora lontana da raggiungere la parità di genere nel mondo del lavoro. Le donne infatti non solo hanno maggiori difficoltà ad ottenere una posizione lavorativa, ma spesso questa è precaria e poco remunerativa. Vediamo i dettagli nel servizio. Sottopagate, sfruttate e disoccupate. I problemi delle donne Umbria nel mondo del lavoro sono stati fotografati dall'Agenzia Umbria Ricerche per quanto riguarda il gender gap. Dopo una lenta ripresa in seguito alla pandemia, i tassi di occupazione femminile non riescono comunque ad andare oltre il 60%. A questo contribuiscono vari fattori. Innanzitutto il livello di istruzione. Per le giovanissime tra i 24 e i 35 anni è praticamente impossibile trovare un lavoro che non sia un part-time o una collaborazione occasionale, spesso con condizioni contrattuali svantaggiose e senza tutele che portano a situazioni di sfruttamento prive di prospettive future di stabilità. Un dato che diminuisce con l'aumentare del titolo di studio. Una donna laureata ha la stessa possibilità di trovare lavoro rispetto a un uomo diplomato. Da un lato questo dimostra che l'istruzione è ancora un faro di speranza, ma evidenzia una disparità di trattamento tra le due categorie. Altro fattore è quello legato alle scelte di vita personale, in particolare alla nascita dei figli. Sono quasi sempre le donne a dare le dimissioni dal lavoro per badare alla prole, visti da un lato gli alti costi di asili e servizi di babysitting, e dall'altro gli orari lavorativi incompatibili con la vita privata, la cui cura è demandata solo alle componenti femminili della famiglia. Le donne che abbandonano il lavoro più facilmente, infatti, sono quelle con figli tra gli 0 e i 3 anni. Questo, ovviamente, ha delle ripercussioni sui tassi di fecondità. Sono sempre meno le giovani Umbre che scelgono di fare figli. In Umbria, solo il 25% delle donne guarda il futuro con speranza e fiducia. Infine, la tipologia del lavoro. Le retribuzioni femminili sono più basse anche perché le donne hanno di solito un monte di ore lavorative più basso rispetto agli uomini, spesso per part-time involontari o per la suddetta scelta di dedicarsi alla famiglia. Ai posti di comando, ancora, le donne invece sono troppo poche. Alla luce di questa analisi, si può dire che l'Umbria dovrà fare ancora molta strada per superare le disparità di genere. Il comune di Terni potrà rintracciare chi abbandona i rifiuti tramite le fototrappole. A Terni, infatti, resta diffuso il fenomeno dell'abbandono di rifiuti in discariche improvvisate distribuite sul territorio urbano ed extraurbano. Da oggi, però, per le autorità preposte al controllo, è possibile fare ricorso alle cosiddette fototrappole, ovvero dei dispositivi che, automaticamente, potranno immortalare chiunque adotti questa sbrigativa soluzione per disfarsi dei propri rifiuti. Nei mesi passati, benché molti cittadini si affrettassero a inviare segnalazioni su discariche abusive, non era possibile utilizzare le immagini raccolte per motivi di incompatibilità con la legge sulla privacy. Adesso, la questione è stata sbloccata da Palazzo Spada e chi getta rifiuti senza criterio si ritroverà immortalato e potrà essere rintracciato e sanzionato. Ancora episodi di microcriminalità nella frazione di Marmore. Questa volta, i soliti balordi hanno dato alle fiamme una siepe di un'abitazione privata. Solo il tempestivo intervento di alcuni passanti ha evitato che il fuoco potesse distruggere l'auto che era parcheggiata lì accanto. Gli abitanti della frazione tornano a chiedere al comune di Terni l'installazione di un impianto di videosorveglianza. Ecco il servizio. Marmore continua ad essere terra di nessuno. Furti senza soluzione di continuità, atti intimidatori e vandali in azione. Una lunga sequela, in atto da mesi, che non accenna a diminuire. Questa volta i malviventi, nella notte di sabato, poco prima delle 23, hanno gettato benzina al ridosso di una siepe, incendiandola. Per puro caso, due persone che si trovavano a passare da quelle parti hanno avvertito il proprietario di casa che abita al piano superiore. Il principio di incendio è stato ben presto domato. Presentata denuncia alla stazione dei Carabinieri di Piediluco. Tutto si è risolto in breve tempo, ma poteva andare decisamente peggio. Senza l'allarme sarebbe andata a fuoco anche l'autovettura del proprietario dell'abitazione parcheggiata vicino alla siepe. Ma cosa sta accadendo a Marmore? Gli abitanti sono piuttosto sconvolti dalla lunga serie di episodi che dalla scorsa primavera stanno minando la serenità della frazione. Monta così l'allarme tra gli abitanti con la locale sezione del PD che torna a proporre al comune di Terni un sistema di videosorveglianza dai salari in alcune vie strategiche del paese. Anche se non risolveranno definitivamente il problema, spiega Sandro Piccinini, ex consigliere comunale, sarebbe un ottimo deterrente, visto che da anni il paese della cascata è continuamente meta di furti e atti di vandalismo. L'ultimo atto vandalico, in ordine di tempo, è quello che è accaduto alla scuola dell'infanzia, dove alcuni malintenzionati hanno scardinato una finestra mettendo a soquattro tutte le aule. Il fatto è ancora più grave perché è avvenuto qualche decina di minuti dall'entrata a scuola dei piccoli. Anche la locale Proloco ha denunciato con forza la grave situazione con una lettera alle istituzioni. Non è più accettabile, si legge in un passaggio, il verificarsi di tali episodi di microcriminalità. Sia il PD che la Proloco sono ora in attesa di un segnale da parte delle istituzioni, segnale che finora non è mai arrivato. Gli prende fuoco la macchina mentre percorre una strada secondaria in località a Tordimonte di Orvieto. Il proprietario, un cacciatore, mentre stava guidando, ha notato del fumo fuori uscire dalla parte anteriore dell'auto. Subito accortosi, intuendo cosa stava per accadere, l'uomo ha prontamente chiamato i vigili del fuoco, i quali, giunti sul posto, hanno trovato l'auto ormai completamente avvolta dalle fiamme. Per fortuna, il cacciatore è in colume. Traffico bloccato lungo il raccordo auto-stradale Perugia-Bettolle, in corrispondenza dello svincolo per Olmo-Perugia in direzione di Perugia a causa di un incidente. Il sinistro ha coinvolto un furgone e un'autovettura. Sul posto, le squadre ANAS e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità in loco e per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. Un bellissimo regalo di Natale, quello che la Fondazione Aiutiamole a Vivere è riuscita a far vivere ad alcuni tra bambini e bambine ucraini arrivati questa mattina in Italia per trascorrere le festività. Ma riviviamo le emozioni della pazza partita del Riga Monticeppi nel prossimo servizio. Sono immagini che scaldano i cuori. Questa mattina sono arrivati i bambini ucraini che la Fondazione Aiutiamole a Vivere ospiterà nelle famiglie italiane per il Natale. L'aereo che li ha portati in Italia è atterrato alle 9.30 all'aeroporto di Orio al Serio di Bergamo. Una bellissima notizia, arrivata al termine di un fine settimana che ha visto la Fondazione protagonista prima nel carcere di Regina Celi e poi nel convento San Francesco dei Frati Minori Conventuali gestito dalla Fondazione a Bagno Reggio in provincia di Viterbo. Noi avevamo delle richieste importanti da parte di due strutture che stanno in grande difficoltà. L'una è il carcere di Regina Celi di Roma dove i detenuti ci hanno chiesto per Natale di poter avere perlomeno un paio di scarpe. L'altra è quello del convento di San Bonaventura nella città di Bagno Reggio dove noi abbiamo il convento di San Francesco dove ospitiamo circa 200 suore del Verbo Incarnato che fanno ovviamente gli ultimi anni prima di formazione, prima di andare in missione provengono un po' da tutti i paesi del mondo perché parliamo del Brasile, dell'Equadro parliamo della Spagna, della Francia, della stessa Italia tutte ragazze che non soprano i 22-23 anni che sono pronte ad andare in tutte queste missioni ricordiamo che in questo momento ne abbiamo alcune proprio nella striscia di Gaza dove stanno cercando di salvare centinaia e centinaia di persone anziane, bambini all'interno del loro convento e anche lì abbiamo portato oltre 200 paia di scarpe per ognuno di loro per cui è un fine settimana davvero impegnativo perché 100 paia di scarpe al maschile a Regina Celi, ai detenuti 200 paia di scarpe alle suore del Verbo Incarnato a Bagno Reggio Scienza e Arte si incontrano per il secondo anno al CLT di Terni per stimolare la curiosità e la voglia di conoscenza dei futuri scienziati ternani molte le iniziative curate dai divulgatori scientifici del gruppo Pleiadi che hanno appassionato bambini e ragazzi ecco il servizio Si è ripetuto il connubio tra Natale e cultura scientifica al Circolo Lavoratori Terni grazie agli allestimenti curati dal gruppo Pleiadi Education Science Curiosity presso i locali della Biblioteca Storica del CLT Arvedi Ast Le iniziative distribuite nei pomeriggi di venerdì 15 e sabato 16 dicembre hanno permesso ai giovani partecipanti di curiosare in ambiti scientifici diversi ma tutti ugualmente appassionanti come la robotica, lo spazio e il corpo umano ed è proprio ai futuri scienziati che si rivolge il pensiero degli organizzatori affinché i bambini di oggi possano sviluppare la necessaria curiosità verso i fenomeni del mondo presupposto fondamentale per sviluppare conoscenza, creatività e ingegno Marco Bortolotto ci descrive l'iniziativa accanto allo spaccato di un galeone allestito nella sala grande della Biblioteca Ci hanno ospitato per il secondo anno consecutivo per costruire questa iniziativa che ha permesso a tantissimi bambini e a tantissimi adulti di approcciarsi alle discipline scientifiche relative anche alle aule STEM attraverso il gioco, il divertimento la curiosità e la scoperta di nuove attività che portano un po' a scoprire cose che magari conosciamo ma non sappiamo bene come funzionano e nei bambini spesso questo è fonte di curiosità che gli permette di anche vedere un po' al futuro ed è questo proprio l'obiettivo anche della società Pleiadi che si impegna da oltre dieci anni nella divulgazione scientifica attraverso proprio queste attività sia nelle scuole che nelle aziende perché crediamo che sia fondamentale l'approccio in maniera oltre che ludica scientifica ma a stimolare la curiosità nelle future leve che potranno poi portare innovazione abbiamo realizzato una scenografia come potete vedere con un galeone per poter far anche raccontare delle storie in una maniera un po' più didattica ma anche ludica e far capire attraverso delle piccole strutture come avvengono i tuoni, i fulmini gli spostamenti d'aria tutto sempre legato alla didattica STEM che porta la curiosità alla scoperta Biologia, Fisica, Matematica si incontrano con l'arte per raccontare la scienza in modo divertente grazie a installazioni interattive spettacoli teatrali ed esperimenti logico-matematici tutte attività pensate e realizzate da esperti divulgatori scientifici proprio a misura di bambino tra science show viaggi avventurosi e rompicapi matematici la scienza al CLT diventa divertente e appassionante l'atmosfera natalizia entra nel vivo con l'emozionante concerto gospel tenutosi alla chiesa di San Francesco vediamo le immagini chiesa gremita in occasione del concerto natalizio di Visione in Musica per assistere al gospel show di Pastor Ron una formazione di 11 elementi 3 musicisti e 9 cantanti due ore di emozioni non stop ma anche di contagioso umorismo uno show che arriva dritto al cuore uno spettacolo organizzato da Visione in Musica in collaborazione con Fondazione Carit il presidente, professor Luigi Carlini ci ha raccontato l'idea della vincente sinergia quest'anno abbiamo deciso d'accordo con Visione in Musica di poter cambiare un po' la tematica e portarci sul mondo dei gospel anche per cercare di dare ancora più un clima natalizio alla città l'evento è molto seguito per questo abbiamo fatto due spettacoli uno pomeridiano e uno serale e abbiamo avuto un pienone completo grandi obiettivi anche per la stagione 2024 in occasione del ventennale di Visione in Musica come annunciato dal direttore artistico Silvia Allunni Chiesa Gremilissima che dobbiamo dire musicisti straordinari spettacolo bomba guarda Terni c'è c'è da tanto Visione in Musica fa un grande lavoro ma aspettiamo perché ci sono nomi anche in stagione che veramente fanno solo il concerto a Terni quindi l'auditorio Ungazzoli sarà pieno di gente da tutta Italia Buon Natale a tutti Anche Terni avrà il suo concerto di Natale e il protagonista della serata sarà Michele Zarrillo abbiamo intervistato gli organizzatori che ci hanno spiegato perché un evento del genere è di grande importanza per la nostra città vediamo le loro interviste nel prossimo servizio Per la prima volta anche Terni avrà il suo concerto di Natale che vedrà come protagonista assoluto della serata Michele Zarrillo Il concerto si terrà il 20 dicembre alle ore 21 al Teatro A del Centro Multimediale abbiamo chiesto agli organizzatori come mai hanno ritenuto che Terni avesse bisogno di un Natale pop Abbiamo pensato che fosse il momento magari anche per un pubblico più ampio di poter avere un concerto aperto di musica popolare e quindi adatto un po' a tutte le famiglie, ai bambini e non solo Zarrillo è un artista molto amato ha una storia lunga e pensiamo che possa piacere un po' a tutti al pubblico ternano sicuramente abbiamo avuto già bei riscontri siamo molto felici anche di come viene insomma preso dalle persone che ci contattano abbiamo avuto tante richieste anche da fuori Terni e questo insomma è una cosa che ci fa molto piacere quindi ci sarà sicuramente molto pubblico e mi fa piacere poter dire che finalmente a Terni comunque arriveranno anche persone da fuori che magari si godranno anche tutti gli eventi natalizi L'evento benefico ecco perché comunque il periodo natalizio ci abbiamo già approvato nel 2019 dicembre poi è successo di tutto che purtroppo è un'era geologica però credo che possa essere l'idea migliore uno per mettere comunque un biglietto che sia accessibile a tutti e comunque dare la possibilità anche di aiutare i cittadini ternani perché ci saranno delle iniziative benefiche che saranno promosse in questo concerto tra l'altro da parte della fondazione Sbrolli e quindi siamo felici che abbiano aderito e cerchiamo insomma di portare avanti questo progetto che inizia adesso un evento insomma di quelli che a Terni non si vedono da tanti troppi anni eppure l'interesse ci sarebbe come ha dimostrato la rapidissima vendita dei biglietti il problema degli spazi per i concerti a Terni è evidente speriamo insomma che possa in qualche modo risolversi presto tra il nuovo teatro Verdi ci vorrà un po' e poi anche il nuovo palazzetto però penso che sia il momento per cominciare a uscire e avere dei nuovi dei nuovi eventi perché Terni comunque in passato neanche tanto lontano ha avuto i suoi i suoi grandi eventi poi c'erano anche altri posti al di là insomma di Villa Lago che comunque è stato usato anche dal tributo in Drigo per Irene Grandi però certo è da sistemare c'è tutta quella parte in cui era nato Umbria Jazz poi ci sono stati tanti grandi altri eventi insomma quindi c'era il Politeama c'era il Verdi e dobbiamo ritornare un pochino al centro perché in questa zona comunque non c'è spazio per fare concerti Appuntamento giovedì 21 dicembre dalle ore 19 al liceo classico di Terni che per l'occasione si trasforma completamente il grande edificio si illumina nel crepuscolo e apre le sue porte alla bellezza e l'avventura inizia e diventa un viaggio intenso ricco e appagante alla scoperta del metaverso un viaggio che la nostra scuola spiega una nota del liceo tacito con il suo bagaglio di immaginazione esperienze e cultura propone al territorio attraverso la creazione di attività e contenuti con la realtà virtuale e aumentata ed è proprio nei locali del classico aperti eccezionalmente di sera fino alle 22 che si incontreranno gli alunni i docenti i genitori i futuri iscritti e coloro che sono ancora indecisi e che vorrebbero frequentarlo dopo 53 anni di attività chiude il ristorante albergo lo scoglio dell'aquilone di Amelia simbolo della città e conosciuto in tutto il comprensorio Amerino e non solo la famiglia De Santis che lo ha costruito e gestito in tutti questi anni ha venduto la proprietà della struttura ecco il servizio se ne va un pezzo della storia di Amelia il ristorante albergo lo scoglio dell'aquilone chiude i battenti dopo 53 anni di storia ad annunciarlo la stessa famiglia De Santis che in tutti questi anni ha portato avanti l'attività Elisabetta Daniela e Laura hanno scritto sulla pagina social del ristorante nell'augurare a tutti le migliori festività natalizie vi informano che dopo 53 anni di attività lo scoglio dell'aquilone ha cambiato proprietà e gestione ringraziamo quanti ci hanno supportato e sopportato in questi anni grazie ancora a tutti tante le voci che circolano sul destino dell'edificio che gode di uno dei panorami più belli della città la più gettonata è quella che ipotizza una futura residenza per anziani vera e propria istituzione per Amelia e tutto il comprensorio questo albergo ristorante a conduzione familiare ha attraversato mezzo secolo di storia segnando il passo dei momenti più importanti nella vita della comunità lo scoglio apri i battenti nel 70 grazie all'intuizione di Nazareno De Santis inaugurando una stagione di successi che lo hanno portato a raggiungere una fama internazionale dopo l'improvvisa scomparsa di Nazareno Elisa le figlie Daniela e Laura raccolsero il testimone e portarono avanti il sogno del padre imprenditore e artista un'opera che negli anni si è arricchita di una serie di attività fiorite intorno a quella alberghiera come corsi sulla rivisitazione di antichi piatti umbri medievali che hanno fruttato anche qualche partecipazione a trasmissioni televisive come Piacere Rai 1 e Geo en Geo un nuovo secolo porta però con sé grandi preoccupazioni la frana della montagna nel 2006 che costrinse la chiusura per oltre un anno e il terremoto del 2016 nel rispetto dello spirito battagliere della famiglia dopo il sisma in verità avevano preso corpo anche l'idea di ristrutturare l'albergo per trasformarlo in un centro benessere una trattativa già avviata ma stoppata dalla pandemia di coronavirus oggi la decisione di lasciare e passare la gestione ad altri proprietari chiudiamo qui con le notizie di cronaca ma ci vediamo tra poco con la pagina sportiva restate con noi di cronaca Grazie a tutti.